Il cristiano è un pellegrino senza strada, ma costantemente e tenacemente in cammino, dice San Giovanni della Croce, che sintetizza mirabilmente l'atteggiamento che Cristo vuole dal suo discepolo. Un viandante senza alcuna frontiera o obiettivo, sempre in cammino verso traguardi con super scritto partenza. Rivertire per proclamare il regno di Dio, testimoniare la sua presenza nel mondo per avere la forza di affrontare le innumerevoli necessità che si parano davanti. Affrontare tutto a denti stretti e muso duro, senza mai voltarsi indietro, senza nostalgie o rimorsi, senza paure o tentennamenti. Ricominciare da capo, mai accontentandoci di quello che siamo, né impauriti o spaventati di quello che dovremmo essere. Il Signore non si stanca mai di noi ed ogni momento ci ripropone quell'invito tenero e dolce, seguimi. Dice ogni linea di arrivo c'è una linea di partenza. Quando a causa degli anni non potrai correre, cammina veloce. Quando non potrai camminare veloce, cammina. Quando non potrai camminare, usa il bastone. Come a dire a ciascuno di noi di non fermarci mai e di non voltarsi mai indietro per non fare la fine della moglie di lotte che guardò indietro e divenne una statua di sale.